È la terza Domenica di Avvento, la Domenica della Gioia, una gioia che viene dalla vicinanza di Dio, sottolinea il Papa L'Angelus, della sua presenza nella nostra vita. Una gioia reale, perché con Gesù la gioia è di casa, una frase apparsa in piazza e che il Francesco fa sua ripetendola più volte. Ogni cristiano è così investito dalla missione bellissima di orientare la gente a Cristo, di essere missionari della gioia e per farlo bisogna ricorrere alla preghiera perseverante, a cercare il bene e non il male, solo con questo stile di vita si incontra Gesù salvezza. E lui ricorda al Papa che è possibile trovare la pace interiore e la forza per affrontare le diverse situazioni della vita, anche quelle più pesanti e difficili. Guardando a Natale, la Chiesa invita a testimoniare che Gesù non è un personaggio del passato, ma continua ad illuminare il cammino dell'uomo. Al termine dell'Angelus, la benedizione dei bambinelli e l'annuncio di un gradito regalo da parte del Papa, 50.000 copie di un libro di preghiere distribuito in tutta la piazza. La preghiera è il respiro dell'anima. È importante trovare dei momenti nella giornata per aprire il cuore a Dio, anche con le semplici e brevi preghiere del popolo cristiano. Per questo, oggi ho pensato di fare un regalo a tutti voi che siete qui in piazza. Una sorpresa, un regalo. Vi darò un piccolo libretto tascabile che raccoglie alcune preghiere per i vari momenti della giornata e per le diverse situazioni della vita. Alcuni volontari lo distribuiranno. Prendete uno ciascuno e portatelo sempre con voi, come aiuto a vivere tutta la giornata con Dio. Grazie. Grazie. Grazie.